Ricorda ancora che nel dopoguerra solo una parte del patrimonio fu restituita e con un particolare assurdo, cioè gli ebrei dovettero pagare per avere ciò che gli apparteneva. Infatti l'ente Egelli richiese loro le spese di gestione sostenute. Tra le ville più lussuose restituite a legittimo proprietario ce n'è una che è diventata famosa perché acquistata dal notissimo attore George Clooney. Ebbene, questa grande villa, Villa Oleandra, sul lago di Como, era abitata negli anni 30 del 1900 dal pittore Emilio Vitale che amava trascondere lì vari periodi durante le strade, appunto in questa bellissima villa settecentesca ricevuta in eredità dal nonno. Ma nel 1944 fu espropriato di tutto, compresi i due conti correnti e le 81 azioni presso la Banca Popolare di Milano. Comunque, come abbiamo detto, Vitale fu tra i fortunati a rientrare in possesso della sua proprietà, dove trascorse parte della sua dichiaria. E quindi il libro offre chiaramente tante informazioni e spunti di riflessione. E ne ricordiamo quindi ancora il titolo, 1938, l'Italia razzista di Fabio Sman, con prefazione di Liliana Segre. Bene. Mandiamo un'altra canzone. Mandiamo un'altra canzone. Allora, vediamo un po'. Il gruppo di Erasmo Treglia è da anni impegnato nel recupero delle canzoni della tradizione zingara italiana. E sono molte le province del centro Italia e qualcuno anche nel nord, come Sinti Piemontesi, dove appunto queste comunità vivono, diciamo, integrate. E questo è, qui vi mandiamo, un assaggio delle melodie che ormai sono entrate a far parte anche della nostra tradizione popolare. Quindi ascoltiamo, vi accoraggio a drum in Ussa Sa. Uzza, 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 Uzza. Uzza, Uzza, Uzza. Uzza, 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 Uzza. Uzza, 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 Uzza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.